Nei suoi confronti c'è stata una generale apertura sia da parte degli assessori della Giunta Ghinelli sia dei consiglieri, ma per il momento l'atto di indirizzo è stato ritirato per permettere la verifica di alcune questioni di carattere amministrativo, per poi arrivare a essere votato in aula più avanti. Stiamo parlando della proposta del Movimento 5 Stelle di Arezzo di istituire un corpo di polizia turistica. La sua finalità sarebbe quella di vigilare in particolare contro le guide abusive. All'interno del Comune di Arezzo, ma non solo, sta sempre più dilagando la guida turistica abusiva, insomma persone che si improvvisano guide turistiche. Dal nostro punto di vista è un danno per la città di Arezzo in questo caso, ma credo in generale laddove ci sia questo fenomeno, perché il turista che viene e dà una spiegazione corretta, puntuale, competente della guida turistica, ovviamente ha un ritorno positivo, al contrario se la guida turistica è improvvisata, nonché abusiva, quindi sarebbe anche quello grave, crea anche un danno.